631 accertamenti volti alla ricerca dell'RNA virale nei tamponi positivi al Covid, intensa attività di ricerca sul sequenziamento genomico del virus per lo studio delle varianti, investimenti per oltre 5 milioni di euro nel patrimonio dell'ente. Formati a distanza 6.000 professionisti sanitari, 1 milione di accertamenti diagnostici, 99 progetti per un budget complessivo di oltre 19 milioni di euro e il bilancio di fine 2021 dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, un'eccellenza in Italia e nel mondo nel campo della ricerca veterinaria. Le tappe più importanti di questo 2021? Fino a metà anno l'attività diagnostica per il Covid, a novembre 2020 abbiamo fatto l'anno scorso 90.000 tamponi, solo nel mese di novembre, ovviamente dicembre e gennaio e febbraio il clima non era molto diverso, quindi fino alla fine del mese di giugno siamo stati impegnati sul Covid. Sono stati 99 i progetti in atto nel 2021 con una dotazione di 19 milioni di euro di investimenti. Nel 2021 siamo stati riconosciuti come centro di riferimento per il benessere animale, per esempio. La giornata più difficile? La giornata più difficile è stata il 24 dicembre, quindi i giorni che sono susseguiti, l'inizio di gennaio, quando abbiamo trovato la variante inglese, perché è stato un evento eclatante, anche quello di suggerire le attività da mettere in atto anche per le autorità locali, è stato tutto un lavoro molto molto importante, molto difficile. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, il direttore dell'IZS, Nicola D'Alterio, ha anche presentato il nuovo logo e la nuova identità visiva dell'Istituto, un piccolo capolavoro grafico, immediato e moderno. Il nuovo logo è molto semplice, direi, ma dice quello che siamo. L'idea del logo deve essere quella lì, quella di descrivere in poche lettere quello che è. Noi siamo IZS Teramo.